e ciao a tutti amici youtube benvenuti in questo nuovo video sono sempre io mazzotx e oggi siamo tornati su grand chase con la quinta puntata allora entriamo sempre con il nostro caro e vecchio lass allora ho comprato altre pozioni perchè almeno così si possono usare dal gp shop e allora siamo arrivati a marsh of oblivion quindi creiamo una stanza quando vuoi grazie no che non entri gente che hai fatto si va bene ok blocchiamo tutto no è vero che prima non si blocca mai va bene start oh mio dio cosa sono delle rane uscite male sono anche semplici da battere che cazzo ma però tolgono abbastanza speriamo che non si rimetti a laggare come ha fatto l'ultima volta perchè è stato abbastanza insopportabile lo scorso gameplay perchè non ho capito il motivo ma laggava in modi assurdi no 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 ti prego non dimmi parkour no ok 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 salta salta oh yes alla prima botta e boom non è vero mai ma questo ma questo va bene ma che è boom stacomo stato adoro ok prendiamo solo ste monetine prima che perfetto perfetto ah ci sono ancora dei ranocchi madò quanti cazzini dati di monete stavolta e vai ok dobbiamo andare giù o su? giù perfetto salve ah quello è salito puretto ok oh armatura ah fissa si comunque il punto è che se avessimo usato le pozioni sin dall'inizio ma che esplodono tipo se noi avessimo usato le pozioni sin dall'inizio avremmo sicuramente fatto il maronne bordello fammi pigliare questo ah io vado giù che cavolo ok devo ancora capire come si fanno molte combo pam pam ok schivata madornale ciao giù giù due pezzi armature ok ho visto che c'è un pezzo per l'ass e adesso vediamo poi cos'è e allora poi di qua non c'è niente perfetto ok boss e non me l'ha preso mai ok bosh 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 vediamo che stiamo crepando usiamo una pozione stavolta perchè non ho voglia di rifarmelo madonne bellissimo bellissimo barma eheh ti sto facendo il culo no schivamelo oh ma no non è che c'è quasi morto aia se mi colpisce ancora due volte son morto io merda ok senza usare pozioni c'è dai cioè son troppo forte no 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 c'era una moneta non sono riuscito a prenderla vabbè che punteggio mi hai dato un bel boh non c'è più la lettera una con un tempo vabbè dai i gp ci stanno no questi cos'erano sti stivali vabbè sono dettagli ok 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 do do ho detto ok si va bene allora vediamo a vedere direttamente da qui che cosa abbiamo di nuovo oh valla che belle cose allora queste che mi danno 52 in più d'attacco questi mi danno 30 in più di vitalità ah ma alla fine erano questi i corrigeri che c'erano possibili da prendere non ne erano più palidere difesa poi abbiamo i pantaloncini nuovi abbiamo abbiamo questo non possiamo ancora prenderlo e basta praticamente ci siamo rifatti tutta l'armatura mio dio con quale bruttezza però me lo stai facendo vedere e e questo è a posto bene direi finito qua questi ok perfetto andiamo avanti exit ok adesso forsaken barrows non so come si pronuncia speriamo così ok allora facciamoci questo qua sperando e smettilo capite che ci sono le le missioni ok start ma scheletria ormai oh vabbè dai ci mancavano solo loro dai proviamo a vedere quanto tolgo con la skill e fammela beh dai dai va bene dai va bene va bene facciamo un bel po' anche con la prima skill quindi vado questi ma no scappa ok meno male che mi ricordavo che questi tipi esplodevano ok 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 andiamo avanti wow salve vediamo vediamo questi sono già più duri aia non ci provate mai più ok olle madò sta mossa quanto l'adoro ma smettila adesso però di farla ok ciao perfetto basta ok 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 perché si fa una serie di combo super veloci e poi lo butta per terra e quindi tu poi hai di nuovo tutto il tempo di riattaccarlo di nuovo comunque già abbiamo perso parecchie vite oh salve a te ti accoppo così semplicemente quella sta ferma perché è una bomba molto stronsa vediamo quanto il tocco con la seconda un shotto perfetto oh salve minchia marone salta ok ok vado Oscar vado ok ok c'è il fatto che per entrare bisogna fare così ok mi inizio credevo già in un parkourie eh eh vai vai perché vai giù? non sei capace a star su? braaaa bambino ok ah no non si è morta ancora oh level up perfetto adesso dobbiamo andare su nooo il mio avventario è pieno merda non dicevo più un cavolo ahhh oh ciccia madonnae oh che culo ah ma è vero che forse si può fare anche il doppio assalto mentre sei in volo oh 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 vedi che ti sto sotto non mi fai niente bitch guarda basta che gli sei toccato che cazzo tipo sei una cosa ma è una merda sto boss semplicissimo basta che cioè così possiamo andare avanti ah no scherzavo scusami se ciao va è stato semplicissimo mi hanno tolto più i quelli normali che questi eh però che cazzo è stato è stato mucho mucho semplice pure rank s 15 cioè sono un pro ok il 2 allora ok ok andiamo un attimo che cosa dobbiamo toglierci sicuramente qualcosa infatti non abbiamo ricevuto niente allora vendiamo un po' di roba tipo questo tipo questo tipo questo tipo questo tipo questo vediamo tutto no questo no ok ok questo 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 tutto quello che oramai non ci serve più a niente ok se lo beh ci siamo svuotati leggermente perfetto ok ok il video di oggi potrebbe anche concludersi qui dato che abbiamo fatto i nostri due bei dungeon il prossimo sarà la forgotten city intanto fammi vedere solo che skill mi hai fatto allora ah questa qua mi fa migliorare questa perfetto ok vediamo un po' special mai nella vita la special eh livello 20 vabbè ci siamo quasi allora voglio provare voglio provare questa che però non lo so mai ancora devo capire come si fa a usare x input x e quadratino perché non sa che segno è perfetto e vabbè allora il il video di oggi può finire qui e fammi vedere questa missione che è tanto adesso mi fai vedere la missione sicuro va bene niente ok perfetto il video finisce qui e ciao ciao a tutti al prossimo video ciao ciao ciao